Filippo Carossino, voluta e ottenuta, la Unipolsa e Brianteo 34 canture in finale dopo un doppio confronto di alto livello con Giulia Nova, cosa porti a casa da questa doppia sfida? Sicuramente siamo felicissimi, era il nostro obiettivo portare l'ennesima finale Scudetto a casa, adesso arriva il bello, la parte più difficile, fino ad oggi è stata difficile, adesso sarà ancora molto più difficile, però stiamo lavorando bene, abbiamo tanta voglia di continuare così e quindi ci prepariamo al meglio questa settimana per affrontare questa finale Scudetto che ci rende davvero molto orgogliosi. Ecco, la Unipol sai cosa deve fare in queste partite di finale Scudetto? Deve dare qualcosa in più, cosa manca? Beh, sicuramente abbiamo un ruolino di marcia molto positivo, sicuramente questa finale sarà tutt'altra partita, sarà tutto molto diverso, è una questione molto nervosa, quello che dobbiamo fare è rimanere concentrati, giocarcela al meglio delle nostre possibilità, sappiamo di affrontare una squadra molto forte, ma sappiamo anche che noi siamo forti, quindi niente, ce la giocheremo al nostro meglio, dando il tutto e per tutto e poi una volta finito vedremo cosa avremo ottenuto. Ecco, se vuoi lanciare anche un messaggio ai tifosi, oggi si sono fatti sentire tanto nonostante la distanza, campionato un po' anomalo anche per questo, ma non ci hanno mai mancato del loro supporto. Ma sicuramente, ripeto, come ho detto, forse è la prima partita di questa stagione, giocare in questo campo senza pubblico è una cosa veramente strana, siamo abituati ad avere un calore incredibile, però sappiamo anche, siamo molto orgogliosi e ringraziamo tantissimo tutte le persone che nonostante non possano essere qui presenti fisicamente ci sostengono da casa, quindi vi chiediamo di farlo anche in queste finali, ancora più forte, con ancora più grinta, perché sicuramente col vostro supporto abbiamo un uomo in più e quindi siamo pronti a giocarci tutti insieme questa finale Scudetto.